aah Hamel chiude eh, non mi ricordo come cazzo se chiude ma... ah forse ho... ah forse ho chiudato eh ah c'è il capo, salam alaikum va bene ah Khabir Hussein, tutto bene? si si bene bene, e lei? ah non c'è male, Hamel è arrivato appena adesso è uscito eh ah ma tu, tu militario? Militario? no no io amo la mimetica ah no Hamel non capisce, scusate tu puoi ripetere me? ho detto che mi piace la mimetica per poi... ah la mimetica, io usavo molto quella quando ero a Fallujah ah Fabrizio eh sì, eh... ciao capo ciao oh polizia ciao buonasera polizia, sergente ah tu sergente? ah scusa Hamel non aveva visto, non conosce grado, scusa eh tranquillo, tranquillo ah tutto bene? per la festa? ah c'è festa? sì ho lettato sopra il... è tanta gratuita se vuole se vi interessa ah molto bene ah ma posso dicere una cosina a voi? si ah ci sta come si dice signorina? signorina? ma come hai chiamato voi? sì, certo ci sono certo devi chiedere a lui ah lui è uno... ma penso che ci siamo sono la guardia della... ah tu guardia? del locale per così dire ah tu lavora qua? sì sì lavoro qui ah molto benissimo ah c'è sta signorina? eh? sì? ce ne sono... ci sono di ogni tipo e... ogni tipo? è per gusto e decisioni ah ma Hamel non cerca quella con paga eh? no no ne ho so. no ne horizza in tenda io ho le rides che hanno accettato volentieri di farmi un aproch VCC ah non c'è problema io cercavo signorina con capello rosso oh scusa capello rosso si sì sì c'è anche una signorina si sì sì c'è anche la signorina hai chiamato mi sembra Emile o cosa del genere è dentro locale sorta oh molto benissimo Hamel conosce lei lei molto brava e simpaticissima Ho fermato a mille Allaikum salam amico Ufff fratello! Come stai? Tutto bene tu? Ah appena arrivato in città Ah appena arrivato in città Allaikum salam Ufff fratello! No ma che guidi Posso entrare? Sì, posso entrare Salve a tutti i fratelli Salve Oh Kamel Vatti a divertire Kamel vai dentro Ah Kamel va eh Appena arriva è uscita Ciao fratello Vai Kamel vai Il salamo un bislam Oh salve Ciao bello Kamel io l'ho scontato Però ho bisogno di vedere i documenti Ah Kamel da eh, non c'è prova Ah ti guarda Tutto a posto Ah Kamel c'è documento? E' tutta regola Poi hanno messo le ragazze Eh immaginavo Io mi metto una speciale Ragazza Ah come dice scusature Perché qua parla Ah Kamel odiarmi eh Tu ti ho detto eh Però tu senti vuoi guarda Non c'è prova Ah non c'è prova Ah non c'è prova Grazie fratello Dove è la gente Ah come la bus mamma Ah 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 salve a tutti Buongiorno Buonasera Uh Bella signorina Io ricordo te Come stai? Benissimo Quanto tempo è passato eh Un bel po' Ah Che sempre A Kamel glielo posso offrire un drink Ah però Kamel non può beve eh Eh Kamel E' una limonata Ah si che non c'è sia alcol Che per Kamel non può Non posso usare alcol Mi raccomandi eh Ti ho promesso Ah adesso tu Come stai Kamel? Mi ricordo il tuo nome eh Si si Io bene bene Ah tu? E' bene bene Ma tu adesso lavora qua? Non vende più motorsport? E' per ora no Non posso Ah non può Non può dare Ecco Cosa è successo? E' successo che cosa? Ah tu prepara Oh shaka po' Posso offrire davvero? No no Glielo offro io Guarda Ah tu hai potuto scendere eh? Uh Limonata Oh grassa Ah ok Ah io non posso bevere eh Ah Kamel non può bevere Ah Posso bere limonata? Si li beva prima Andiamo Andiamo Ah io meglio L'offro io L' offro io L' pledge imolutamente Ah 아주 much Molto buonissima Mi piace veramente tanto Complimenti mille La limonata del Signore L' offro io Ofro io offro io Behci Offri grande di voi Offro io Ah che fate tutti qua Che che scia faccia Evi dai da bere a tutti questi qua Che scia faccia Piccola festicciola scusate Oh no penetra Ah, Hamel non può bere, scusa. Sono 4 di vodka. Ok. Sono 24. Ma che è successo oggi che c'è questa fetticola? Bisogna festeggiare che cosa? No, c'è il grande ospite, André Di Pre. Il grande Special Quest, Andrea. André Di Pre. Ah, Hamel non conosce, scusa. Io conosco solo fra Asa. Cantante obra del mio paese. E' un grande... Ehm... Ah, scusa, si dice? E' un grande puttaniere, signore. Ah, piacere, piacere Walker, ciao. Mi nome è Hamel, Hamel è il capiro sempre, piacere. Io ci riconosce, sono Hamel. Ah, molto molto... Oh, che è successo? Oh, mia... Tu ho dato pugnato, eh? Ragazzi, chi non ha dato la Volkan? Ah, Hamel è apposta, Hamel è apposta. A me, a me, a me no. Ah, Hamel si è sposta. Ok, ora è arrivato. No, no, no. Oh, ciao Francesco. Mi metti io, chiedi, 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 chiedi. Prima o poi, quando vorrà... Oh, ragazzi! Se tu mi dici con quella voce, Hamel beve anche vodka, eh? No, no, no. Ragazzi, vi prego di ammirare, non la barista che so che è un pochino, insomma, a tira gli occhi, ma la signora lì è appena in servizio. Oh, ecco lì. Ah, dimmi pure, perché c'era un po' dei confusi, eh? Un feedback sul locale. Oh, il locale è molto bello. E mi piace veramente la signorina Emily. Io conoscevo quando lei lavorava in Motorsport. Lei mi ha venduto il camper, il mio camper. Ma lei lavora ancora lì, fa doppio lavoro. Ah, doppio lavoro. Ma ha detto che Motorsport era chiusato adesso. Non so, ma adesso... Sì, sì, ha chiuso un attimo per dei problemi, mi pare, ma tornerà operativo. Ah, problema? Che è successo? Ma non vendono più macchine? Uh, che è successo, signora Cicciotta? Scappa! Uh, che brutta roba! Ah, signora Cicciotta! Prendetela! Perché scappate Cicciotta? Ah, è un po' Cicciottina ma bellina, eh? Ah, ragione, ragione. Allora mi diceva di questo Motorsport che ha chiusato per problema. Che è successo? Eh, polizia? No, mi hanno raccontato che stanno risistemando l'organico semplicemente. Ah, quindi è solo una questione di che devono risistemare il locale? Non è questione del fiscale o che la polizia ha chiuso, no? Ah, se ci sono cose del genere meglio le hanno detto. Ah, no, no, che a me non so. Pensa, eh? Non so, dici a te. No, 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 neanch'io lo so, neanch'io lo so. Ah, ha capito. Qual è il tuo nome che non ricordo, scusa mia? Elias, non mi sono presentato. Ah, ma io li sconosco, eh? Tu mi hai detto che mi sembra il nome era il nome, eh? Eh, siamo visti, credo, una settimana fa. Può essere? Aspetta che guardi, eh, scusa. No, forse conosce Elisa. Ah, Elisa. Io sono Elias, con l'essere finale. Eh, ma mi ricordo Elias. Ma mi ricordo Elias. Oh, no, no, no. Forse cammello è un po' rincoglionito dal sale del deserto. Ok, esatto. Ma io sono io che lavoro troppo. Aspetta un attimo che guarda il numerino, eh? Aspetta. Certo. Ah, da cazzo l'ho scritto. Non mi ricordo forse sui miei fogli. Io scrivo sotto sui fogli del mio paese il papiro, il papiro. Come si dice? Certo, certo. Elia, Elia è l'amico della dottoressa? Allora, sì, ma non sono io quell'Elia. Ah, allora Kamel sbaglia. Allora è un altro. Allora non c'è problema. Allora, perché anche Elia lavora qui, effettivamente. Io sono Elias Portolup. Un dottore, in realtà un'infermiere e adesso mi occupo anche delle pubbliche relazioni qua al locale. Ah, molto, molto benissimo. Bene, bene, bene. Allora, quindi lei lavora qui al Vanilla Unicorn? Sì, sì, lavoro anche da poco. Mi hanno assunto due giorni. Ah, molto bene, molto bene. Eh, se posso addiscire qualcosina se guadagna? No, al momento non avrei ricevuto il mio stipendio. Ah. Ma tu non hai fatto contratto prima? Salve, Detectivato. Salve. Ah, Detectivato? Ah. Non l'ho riconosciata. Eh, io ho visto il cartellino e... Ah, scusa. Ah, tu non hai fatto contratto? Contrattino? Come lavorate qua? Eh, sì, sì, ho fatto il contratto, ma hanno detto che la prima busta paga me la daranno e decideranno quanto daranno a seconda del lavoro che... Ah, tu lavora un po', come si dice, a fiducia? Fiducia? Sì, 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 sì. Ah, tu molto bravissimo allora, eh. Tu molto una persona veramente brava, veramente. Che... Si fa fatica a trovare queste persone, eh. Nel mio paese ce ne sono veramente poche. Nel mio paese... A fiducia non si fa un cazio. Dove? Da dove viene lì? Ah, io sono del Cairo, Egitto. Ah, ok, ok. Ah, tu conosci? Sì, 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 sì. Io sono un'isoletta più in là, diciamo. Ah, di dove sei tu? Sardegna. Sardegna. Sì, sì, Italia. Ah, mi piace Italia. Io conosco Italia, eh. Molto, molto bellissima. Molto bellissimo paese. Grazie, grazie. Ah, certo. Non è venuto a Cagliari, per esempio. E non Cagliari è un'isola, è un'isolotta, eh. Un'isolaina. Cagliari è il capoluogo della Sardegna. Ah, no, Cagliari è venuto solo una volta lì. Ho fatto queste poche città. Poi dopo... Ehm... Io ho sentito loro mi dicere un po' di cose. Io le consiglio... Ah, salve, gente. Abbiamo delle belle spiagge. Salve, scusate. Ah, prego, puoi dire, gente? No, sto sopra a pensiero, quindi... Ah, tu pensa? Non c'è problema? Ah, Cagliari non c'è problema. Ehm... Ah, è tutto bene. Sì, sì, grazie, capo. Sì, sì. Viene tutto qui. Mi ha detto che c'è stata una piccola festicciola. Allora Cagliari è venuto a vedere. Eh, sì, sì, è bello il locale. Ehm... E niente... Ci stanno a sfogliare la lista, Cagliari. Ah, certo, sì, sì. Ah, Cagliari è guardato, eh. Guardato ma non toccato, mi raccomandi. Eh, mai toccare. Certo, certo. Nel tuo paese... Mai toccare, eh... Ah, no, perché mi paese. Io ho sette mogli e due figli. Eh, no, scusa. Due mogli e sette figli. Ma Cagliari è sbagliato. Eh, è difficile. Eh, lo so. Per sì, però così, eh. Ah, scusi, eh. Cagliari ha fatto un po' di casino. Eh... Mi fa un po'... E come si dice, ruotare la testa, eh? Eh... Eh... Vabbè, sì. Le mogli tanto non guardano in questa... Ah, le moglie non guardano, eh? Non ci guardano. Anche perché se guarda, come si dice, mi paese e botta in testa. Ah, è arrivato, eh? Ah, è arrivato, eh? Vai, vai. Ah, vai dove? Entro nel negozio? No, no. Scendi. Kamel, scendi un attimo. Ah, Kamel, scendato. Allora, le do. Queste robe qua che... Ah, tu non mi dà molte robe, mi raccomando, eh? Sì, sì. Sì, sì. A che essere questo? Cos'è sta roba bianca? Farina? Farina? Ah, faccia pensi con questo. È farina, è farina, è farina, così. Ho giugniali? Ho giugniali del tuo mamma? Ho più? Ho più? Ok, vieni. Ah, adesso ho tutta sta roba. Ah, Kamel, non c'è sta niente nella borsa, non c'è sta più niente. Sai perché è chilometro zero? Ah, non lo capisce di me. È perché l'ho preso sotto casa mia. Ah, proprio sotto casa? Ah. Ti spiace se Kamel va prima a posar farina? Perché magari... Ah, tu sta niente, eh? Ah, lui è andato sbattato, eh? Un attimo. Ah, la gamba. Ah, ma... Tutto a posto? Dai, posa la farina. Ah, Kamel posa, eh? Sì, sì, vai. Questo qua, questo qua, eh. È tre? Sì, sì. Mai fly? Sì, sì. Aspetta, scendi che ti accompagni. Lascia le valigie? Sì, sì, ho la valigie. Eh, l'ho posata prima. Ah, aspetta. Ah, tu scarica. Ah, capisci. Va bene. È stato un piacere, fratello? Forse, sì, sì. È stato veramente un bacio di venire. Veramente. Un abbraccio. Un abbraccio veramente. Un abbraccio. Un abbraccio. Ragazzi, grazie. Vabbè, questo spero che... Io spero che Kamel può rivedere a te, eh? Veramente. Sì, sì. Quei soldi te... Te sono tutti in regola, quindi... Ah, sì, sì. Kamel ho visto. Quindi posso spendere... Mi sa che... Ma prendo un po' di esca e così vado a pescare. Ok. Ciao, bello. Ciao. È stato un piacere. Anche per me. Salamalehu, fratello. Salamalehu, fratello. Salamalehu, fratello. El Khabir Usain. Ricorda sempre, eh? Eh, eh. Vabbè, questo non l'ho capito. Ci vediamo. Ciao, bello. Ah, ci facciamo una piccola pescatina, eh? Pescatina? Pescatina? Oh. Vi faccio vedere le mie barche, eh? Le mie barche, eh? Oh, molto bellissima. Tutta... Tutta nerata, eh? Ah, esca. Usa. Oh! Uh! Uh! 8 kg di pesce! Molto bello! Forse pesca buona, eh? Però non riesce a presto. Allora, vediamo. Iniziamo a mangiare questo. Cioè, non moriamo del fame. Do cazzo si trova questo polpo alla griglia? Questo è molto buonissimo. Venuto Xeno, nerdo. Grazie mille, caro. Grazie capo! Grazie capo! Ah, io non ti chiamo a te capo, eh? No, no, tu non vuoi. Oh... Ah, ti chiamo a mio amico. Va bene il tuo amico? Se tu vuoi ti chiamare così, eh? Ah, grazie te ringrazio. Perché... Come le... Non stai mai sito, eh? Eh, infatti non stai mai sito. Eh, tu stai sito! Tu sempre sparacassiate, come si dice. Io non sparo, cazzate. E spari te. Ah, tu non discerai queste cose a me, eh? Ah, grazie del follow. Lo dico io, grazie del follow. Grazie del follow, rega, fra voi. Ah, tua televisione. Va bene... Va bene se Hamel sta in tua televisione. Però anche io posso dire, dicere queste cose. Intanto mi scappa un sacco di pesce a forza di parla, eh? Ah, 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 ah. Buonasera, buonasera. A me non sta a pesca più un cazzo di pesce perché aveva fatto un sacco di gente e fatta scappare tutti i pesciolini, eh? Adesso un po' di silenzio. Perché, come si dice... Anche Hamel non so con le suone recito non mi può fare un solo respiro alla volta. Grazie del follow. Non l'ho capita neanche io questa, però... sembra buona. Apocalypse 96, grazie del follow. Benvenuti tutti fratelli e sorelle. Anzi, fratelli e frittelle. Mi dispiace che Hamel sta pescando da solo, eh? Eh, se vuoi dare a voi un po' di pesciolino, eh? Non c'è problema. E la lega a estrema come. Eh, bisogna che porta signorina Hamel qua, eh? Signorina dal cappello rosso che mi piace veramente, veramente tanto. Io spero che lei non sia fidanzia, eh? Qualcuno di voi sa se... Signorina non è fidanzia. Ah, mi piace molto, eh? Ah, io non riesco a guardare la lega negli occhi. Guarda tutto gli altri posti ma non ho occhi. La pesce è sparita? Non c'è sta più un cassa di pesce qui. L'ha pescato tutto in erdoardo. Ha forse da pescare pesce se fatto miliardi. Se compra anche quella barca là, eh? Dopo la sua quella. Metti, metti l'esca il pesce. Rassa da recoglione. Come cassa fanno bocca al pesce senza esca? Rassare il follo senza panza. Beato a te. Qua c'è sta la panza, eh? Un po' di panzetta. Un po' di panzetta piccolina. A forza di mangiare polpo. Qua mi viene la panza. Dopo signorina Emel non guarda più, eh? Premi uno. E il pesce è scappato. Rassa da recoglionito. Ah! Alta, macramo! Il pesce è che pescato lì inizia a fare un po' di posse, eh? Se non ti sbrighi. Forza. Oh, grazie, grazie, amico. Grazie, no? Tu sei molto più simpatico di me, eh? Veramente, molto più simpatico. La prossima volta che io torno al Jairo, io porto a te un piccolo cammello come dono. Se tu vuoi, eh? Se tu non vuoi, cammello, non ti porto un caso. Anza ancora meglio. Io faccio fare un figliolino ai miei due cammelli. Il chama e la chama. Sono un femmine o un maschio, eh? Un femmine o un maschio. Occhio cosa peschi. Ah, perché cosa pesco? Che pesci c'estano? I pesci sono pesci, eh? Non è che possono essere dinosauri. O peschi pesci o peschi dinosauri. Cammello pesca solo pesci, eh? Nel mare c'estano i pesci. Io quando giravo sopra... Non so, tu ti conosce il Nilo? Nilo? Non c'è il fiume. A casa mia c'è il fiume. Si chiama Nilo. Si pescano i cocobrilli. Tu conosce? Dice sempre il pelo, non so perché. Mi piace molto mai quella signorina. Ma io voglio chiedere se una volta può uscire, eh? Può uscire. Hai lacrime? Perché tu stai piangendo? Tu non devi piangere, eh? Tu non piangere. Mi raccomando. Per favore, eh? Per favore, ascolta bene i cammelli. Capisci mi? Capisci mi? Tu non... Omo... Omo non da piangere. Non da piangere mai. Non ti fa vedere piangere, eh? Mi raccomando. Quindi... Che se ti vede piangere? E ti ricordino così, eh? Ti ricordi? L'uomo più ricco è quello che sa cosa fare il giorno dopo. E tu sai fare cosa fare il giorno dopo? Bella senza panza, grazie. Buona, buona. Adesso sta anch'io, sì. Ah, ciao, ciao caro amico, eh? Senza panza? Tu... Tu molto mio amico. Tu molto... Veramente mio amico. Camelo veramente ti ringrazio che tu essi passato qua. Veramente. Quando tu ritorni ti regalo un cammello, eh? Un cammello... Un cammello vero, eh? Animalo. No cammello delle sigarette, eh? Ma come cazzo si apre queste casse di macchina? No. Oh, bella signorina. Ciao, come sta? Prima non ho risposto. Ah, Camel capisce, eh? Camel capisce? Non c'è problema. Oh, Camel capisce. Tu magari stavi a lavorare, eh? Non c'è problema. No, eh, stavo guidando. Ho preferito non rispondere. Ah, non si... Non si risponde al telefonino quando sei... Se lavori... Se guida, scusa. Senti, te volevo chiedere una piccola cosina. Ehm... Io ti chiedo solo te perché mi fidi, eh? Io mi fidi tu... Tu veramente bella. Ehm... Senti, io... C'è... Come si dice? Dei soldi che sono un po'... C'è un po' di poste sopra. Ah, eh... Non so... Non saprei nemmeno io. Però forse c'è qualcuno che saprebbe. Tu mi puoi indicare come se posso... No, perché io mi fido solo di te in questa città. Veramente. Tu veramente brava, bellissima e... Molto simpatissima, eh? Allora, io ora sono con dei signori che forse loro lo sanno. Ah, Camel capisce. Sicura. Io li conosco benissimo. No, tu... Camel... Camel vuole che fai tu... Problemi, eh? Veramente. Esatto. Facciamo che domani parlo con gli amici miei e chiedo a loro. Ah, molto magari. Magari veramente. Perché... Camel vuole, come si dice... Liberarsi di questi sporchini. Perché un po' sporchini... E di se no... Come si dice a pussare? Non so se mi capisci, eh? Di tenga... Di tenga in casa. Che è sempre meglio. Ah, Camel tiene in casa. Non c'è problema. Allora, Emily, se non è un problema per te... Io ti chiamo domani? Sì, sì. Allora ti chiamo domani. Tu magari se mi puoi dicere qualcosa? Sì. Appena so qualcosa... In caso o chiamo io o mando un messaggio. Molto, molto benissimo. Veramente. Io non so come ringraziare te. Veramente. Io... Uno di questi giorni ti faccio veramente un regalo... Grosso come una piramide. Grazie, Emily. Buonanotte, eh. Scusa. Ciao, bella. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Va bene. Amici. Amici. Achamelve saluda. E chiediamo appuntamento magari domani. Domani? Se dice domani? Tomorrow? In English. Ok. Va bene. Ciao, fratelli. Salam alaikum. E al Khabir Hussain. Come se dice. Ciao.